I trulli tipiche ed esclusive abitazioni in pietra a forma di cono sono beni culturali particolarmente tutelati dal punto di vista paesaggistico, oltre che una importante attrattiva turistica per la Puglia. Ed ecco perché la sperimentazione dell'uso della canapa viene seguita con molta attenzione da ambientalisti, esperti del settore della ristrutturazione e da chi ha il compito di vigilare su beni di particolare valore ambientale e paesaggistico. La sperimentazione è supportata da asso canapa. L'impiego di prodotti derivati dalla pianta, secondo quanto sostengono i tecnici, ha poteri straordinari e la sua coltivazione è in grado di operare anche la bonifica di terreni inquinati. La scorsa settimana infatti a Brindisi si è svolta una cerimonia per la semina di 27 ettari che ricadono in un'area che necessita di bonifiche ambientali. Ora a Cisternino l'iniziativa ecosostenibile presso una delle costruzioni tipiche della zona. L'azienda che sta realizzando i lavori collabora con Asso Canapa, l'ingegnere che sta seguendo le opere, lo svizzero Jorgen Empel. I vantaggi sono immensi, ha spiegato Andrea Carletti, referente regionale di Asso Canapa, perché si risolve il problema dell'umidità impiegando un prodotto del tutto naturale. La canapa viene coltivata, raccolta e lavorata, si procede alla separazione della fibra, poi viene portata sul cantiere. Per le applicazioni si usano solo quattro elementi, calce idrata, canapulo, acqua e un mix di minerali per legare la calce con la canapa. I lavori cominciati venerdì scorso proseguiranno per una settimana.